Una volta attivata la firma remota, creato l'account e installato il software ArubaSign, puoi configurare il tuo account, nome utente, per firmare documenti digitali, apporre marche temporali e verificare i file firmati. Per iniziare, avvia il software ArubaSign. Dal menu in alto, clicca su Preferenze, seleziona la voce Firma remota. Nel campo indicato, digita il nome utente di firma remota che hai creato in fase di attivazione del servizio e clicca su Aggiungi. Il nome utente compare sul tab Utenti aggiunti. Se disponi di una soluzione non personalizzata, e quindi il tuo dominio è Firma, inserisci solo il nome utente e non spuntare la casella Specifica dominio, che serve per cambiare il campo Firma preconfigurato di default. Lascia inoltre i parametri di firma remota, Server 1 e Server 2, preimpostati. Se disponi di una soluzione personalizzata, inserisci manualmente i parametri dell'indirizzo server primario e secondario, spuntando la casella Specifica dominio, e, mediante il campo apposito, modifica il dominio firma, se necessario. Infine, clicca su Salva per completare la configurazione.